Saluto a tutti quanti, lui è un bravo bimbo, bravo bravo, ora ti fa vedere come conta, uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque, dai, uno, due, tre, quattro, cinque, dai. Siamo usciti, siamo in attesa che arriva Tia Maria e Teresa perché dobbiamo andare a messa perché c'è l'anniversario del papà di Dio Emilio, auguriamo a tutti quanti una serena serata. 1, 2, 3, quattro e cinque, uno, due, tre, quattro e cinque, eccetera, è arrivata Tia, dai, ciao! Ciao!